A Roma ogni anno il Consorzio Nazionale degli Oli Usati raccoglie 4 milioni e 400 mila chili di olio. È uno dei dati emersi nel corso dell'iniziativa Roma Circolare per una nuova economia. La capitale fa la differenza, organizzata in Campidoglio dall'assessorato all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. L'economia circolare è un modello di sviluppo che mira a ridurre lo spreco di risorse e a promuovere la raccolta, il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Tra i relatori in Campidoglio anche il Conou, il presidente del Consorzio Riccardo Piunti. Raccogliamo nel comune di Roma 4 milioni e 400 mila chili all'anno di olio minerale in 3.500 punti diversi, quindi che sono officine, sono fabbriche, sono tutte le cose dove a Roma qualcuno deve stoccare l'olio minerale usato una volta che l'olio è arrivato a fine vita. In più noi siamo presenti in 10 centri di raccolta dove raccogliamo 44 mila chili di olio usato, nei centri di raccolta comunali dove abbiamo i nostri serbatoi e dove il cittadino che ancora si occupa del fai da te, perché ancora qualcuno lo fa, porta l'olio minerale. Per Roma Capitale la collaborazione con i consorsi è importante anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'economia circolare. L'assessore all'ambiente, Sabrina Alfonsi. La grande campagna che abbiamo fatto a Ostia con il Conou per l'olio minerale è quello a tante sfaccettature, sensibilizzare la cittadinanza a recuperare realmente l'olio, che è una risorsa che per di più è ripulibile al 99% e quindi disponibile immediatamente sul mercato e intanto salvaguardare il mare.